Un saluto a tutti cari amici di YouTube, adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca remota, ma anche contemporanea, perché ancora oggi si fa uso di questa religione. Infatti voglio parlare del voodoo, nella cultura di massa il voodoo è ancora visto come qualcosa che ha a che fare con la magia nera e con gli spiriti maligni, con il demonio. Questo è solo causa della cultura di massa, dei film hollywoodiani, soprattutto dei film horror, ma anche di un film commedia all'italiana, Occhio per occhio, Prezzemole e Finocchio, di Lino Banfi, di cui faceva vedere che alla fine del film la colpevole delle sciagure era data non dal vicino di casa di Lino Banfi, ma dalla sua domestica che era una nera che praticava il voodoo. Siamo ancora oggi del pensiero che il voodoo è qualcosa che ha a che fare con la magia nera, qualcosa che ha a che fare con il demonio, di persone che si divertono a punzecchiare con degli spilli o con degli aghi un pupazzetto di stoffa riembito di ovatta, ma che deve avere almeno un capello, un pelo, un giuffo di capelli o un po' di sudore nella persona di cui si vuole fare del male o che si vuole divertire alle spalle di quella persona, niente di più falso, stessa cosa anche per i film della Walt Disney, soprattutto quelli di Paperino, Topolino, di Pippo, che facevano credere che il voodoo è questo, ma non è quello che noi pensiamo, ovviamente le statuette le usano, ma usano le statuette soltanto perché è una religione animista e per animismo si intende dire quella religione di cui ogni cosa ha un'anima. Di solito i cristiani, così come i musulmani, pensano che soltanto le persone, almeno anticamente, pensano che soltanto le persone hanno un'anima, invece oltre alle persone, tutto il regno animale, tutto il regno vegetale, il regno dei funghi, tutti gli esseri viventi hanno un'anima, solo che gli animisti pensano che anche le pietre, le rocce, il vento, i fiumi, gli oceani, la luna, il sole, secondo gli animisti ogni cosa ha un'anima, per questo motivo gli animisti creano delle statuette che vengono chiamate idoli, di cui le pregano, perché secondo loro in quella statuetta c'è uno spirito che loro devono pregare per avere la buona sorte, per andare tutto bene. Il voodoo crede sia nella buona sorte che nella cattiva sorte, e nei voodoo hanno pure delle statuette di cui le pregano. La parola voodoo significa divinità o anche spirito, ma più precisamente significa segno del profondo. Per voodoo si intende ultimamente una religione sincretica. Il sincretismo religioso sarebbe l'unione di due religioni, siccome durante l'epoca moderna, 1700, quando gli Stati Uniti d'America iniziarono a formarsi, quelli che erano diventati statunitensi a tutti gli effetti, gli serviva la forza lavoro, utilizzavano anche i nativi americani come forza lavoro, come schiavi, ma hanno utilizzato anche gli africani, soprattutto quelli del centro Africa. Presero queste persone e le deportarono negli Stati Uniti come schiavi. Loro anticamente credevano ancora a queste religioni, ovviamente pagane. Erano pagani a tutti gli effetti ed erano animisti. Questi erano coloro che abitavano nell'America centrale, zona occidentale. Comunque venivano dal Benin, ma venivano anche dal Ghana e dal Togo. Siccome sono stati presi e portati nell'America settentrionale, hanno iniziato a schiavizzarli, ma loro credevano in questa religione, nel voodoo, e subito dopo ne hanno costretti a battezzarli. Siccome la maggior parte dei moderni statunitensi erano prevalentemente cristiani, volevano battezzare tutti, volevano convertire tutti al cristianesimo. Anche i loro schiavi presi dall'Africa, anche i loro schiavi neri, ma loro volevano potentemente avere la loro religione, il voodoo. E allora c'è stato poi il famoso detto cristiani di giorno e voodoo di notte, che significa che questi neri, anche se praticavano il cristianesimo agli occhi dei padroni, poi ritornavano sempre nelle loro tradizioni voodoo. Che anticamente era una religione animista, loro credevano in un... no, loro erano panteisti. C'era sì un dio primordiale che ha creato tutto, però questo dio primordiale non abita nei cieli, ma abita nel sottosuolo. Per questo motivo i credenti del voodoo hanno molto rispetto per le anime dei defunti e dicono che i defunti, le anime dei defunti e le anime dei vivi sono sempre di pari merito, che viaggiano sempre sulla stessa strada, sullo stesso percorso. loro comunque hanno due anime. La grande anima, il grande angelo custode, che sarebbe l'anima che è dentro il nostro corpo, che va via soltanto dopo la morte. Il piccolo angelo custode, invece, è quello spirito che esce fuori durante il sonno o durante i riti di cui vanno in trance. Il piccolo angelo custode esce fuori e vanno nel mondo dei sogni, vanno nell'inconscio, mentre il grande angelo custode è nel corpo, è quello più materiale, che per tutto il resto della vita e va via soltanto dopo la morte. Anche loro credono negli angeli custodi, ma li chiamano spiriti. I loro angeli sono gli spiriti, così anche i demoni e così anche i santi. I santi, quando quelli della religione voodoo, ma qualsiasi religione pagana, qualsiasi religione animista parla di santi, intende dire degli spiriti. Noi, i santi nostri cristiani, sono delle persone che hanno imitato alla perfezione, preso esempio a tutti, in tutti i sensi, la vita di Gesù messa in pratica, invece per gli animisti e i pagani sono semplicemente degli spiriti. Gli angeli e i santi sono degli spiriti. Infatti il Samain delle religioni wicca, l'Halloween, vigile di ogni santi, il Capodanno Celtico, i santi che intendono dire i pagani sono semplicemente degli spiriti che loro pregano per avere qualcosa di buono. Abbiamo visto varie cose del voodoo. Hanno un panteismo vero e proprio, questi voodoo. È vero che credono che esiste un dio primordiale, ma lo pensano talmente remoto, talmente antico, di cui non è che lo venerano perfettamente, non è proprio a questo dio primordiale che loro venerano, ma venerano altri dei. Andiamo a conoscere gli dei del voodoo. Inizialmente vengono chiamati Lua o the Orixa, che poi sono le loro divinità. Divinità del voodoo vengono chiamati Lua, che poi sarebbero, Lua sarebbero nella loro lingua, guerrieri. Andiamo a capire chi sono. Legma, Legba o Papa Legba è la divinità intermediaria tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Viene visto come un anziano, vediamo se è quello là. Ok, sì. È visto come un uomo anziano, nero, vestito di nero, che sta su una barca dove traghetta le anime con la sua barca in un fiume e ha un cilindro nero. Questo divinità ha una moglie. La moglie di Papa Legba viene chiamata come simbolo a una croce, soltanto che questa croce, la parte verticale, il braccio verticale è l'asse del mondo e quella orizzontale simboleggia la vita eterna. Poi Agwe è il dio dei mari, quindi come tutti i pantheon hanno anche loro un dio supremo, un dio dei mari, un dio degli inferi, un dio della guerra, un dio della legge, eccetera eccetera. Poi Azaka, Tonnerre, Rockewaka, dio del lampo e patrono dei contadini, mentre Agwe è il patrono dei marinai. Poi Dambala, che ha l'aspetto di un serpente, dio della fertilità, che poi è associato anche a San Pietro e San Patrizio. E Zili è la dè dell'amore, che poi viene associata anche alla Vergine Maria. Poi ci sono Iogun, che sono divinità fenomeniche, che riguardano i fenomeni della natura, e Ban Samedi è il signore della morte. Maman Brigitte è la regina dei cimiteri. Ah, ecco come si chiama Maman Brigitte, che poi sarebbe la moglie di Papa Legba. Abbiamo visto il Pantheon, una breve storia del Pantheon, del Voodoo. Allora, adesso vi devo parlare anche del fatto che, non so se l'ho già detto, il Voodoo è considerato anche una religione sincretica, oltre che animista. Il sincretismo significa l'unione tra due religioni, da quando sono stati portati dal Ghana, dal Benin e dal Togo. Queste persone qui, portate in America, negli Stati Uniti, poi alcuni rimasero ad Haiti. Haiti è una delle nazioni dove si pratica di più, dove è più diffuso il Voodoo. Oggi il Voodoo è mischiato con il cristianesimo, e per questo motivo io ne ho chiamato sincretismo. Però devo dire anche altre cose riguardo al Voodoo. Dopo farò un approfondimento. nel New Orleans, nella Louisiana, c'era una donna, che poi era considerata una strega, Marie Laveau, che era nata da un uomo d'affari mulatto, e da una donna nera, ex schiava. Questa donna, Marie Laveau, era temuta e rispettata, ma anche molto amata. Era amata perché aiutava molto i poveri, aiutava molto i deboli e gli indifesi. Aveva aperto anche un salone di bellezza, un salone dove lei faceva la parrucchiera, e si era fatta a diverse amicizie di alto rango della zona aristocratica, alta borghesia della Louisiana, di New Orleans, dove lei era nata e vissuta fino alla morte. Alcuni, invece, la odiavano soltanto perché erroneamente la consideravano una strega. Ancora oggi, nella cultura di massa, questa donna è vista come una strega. Infatti, in alcuni film, telefilm, o anche nel fumetto di Dilan Dog, o nel fumetto di Zagor, o nel fumetto di vari tipi della Bonelli Editore, era vista, era nei Danfir, è sempre rappresentata nei panni di una strega. Ma questa donna, allora, semplicemente potremmo definirla una sacerdotessa voodoo, che sapeva trattare di queste cose. Non ho detto che è proprio dal voodoo, dal Benin, dal Ghana, da Haiti, che è nato il mito dello zombie. Adesso gli zombie, nella cultura di massa, sono visti come dei morti viventi, che di notte si alzano dalle tombe e iniziano a barcollare tutti malvestiti, con vestiti strappati, sporchi, tutti sudici, che camminano barcollando per mangiare i cervelli umani. Ma un po' come tempo fa erano visti anche i vampiri, che i vampiri rientrano nella categoria non morti assieme ai fantasmi e agli zombie. Però, gli zombie sono nati proprio nella religione voodoo. Loro usavano delle droghe, non per schiavizzare i loro nemici, come viene detto nella cultura di massa, ma usavano queste droghe durante i loro riti per entrare in trans. Entranti in trans, loro facevano delle danze e comunicavano con gli spiriti, dato che è una religione animista, è nata come una religione animista, e così è. Questi vanno in trans e le persone che vanno in trans vengono denominate zombie, perché è come se fossero dei morti, come se si formasse un vuoto nella loro mente, che trattano con gli spiriti, e quindi i loro corpi sono là, ma inconscienti. Incoscienti perché trattano con gli spiriti, per questo motivo vengono visti come dei senza anima, quando invece l'anima ce l'hanno, soltanto che la loro anima è intontita, dato che stanno conversando con l'altro mondo. Adesso io sono andato a vedere, anche nelle enciclopedie, nelle vecchie enciclopedie, per sapere cosa parlavano del voodoo, ed ecco cosa sono andato a trovare su una vecchia enciclopedia cartacea. La religione sorta tra gli schiavi negri di Haiti, dall'interazione fra il credo cristiano e i culti tradizionali africani, è nato il voodoo, che contempla reti di evocazione spiritica e di possessione, di tipo del voodoo e lo zombie, tipico del voodoo e lo zombie. Il morto vivente è diffuso nei Caraibi. Questo è quello che dice sul voodoo, secondo un'enciclopedia cartacea, che poi ho scoperto tutt'altra cosa tramite internet, tramite non solo Wikipedia, ma anche dei siti abbastanza credibili. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a pari di teoria o favola moderna, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal gran mitico.